Buongiorno a tutti, il nostro tavolo era molto composito e eterogeneo, c'erano tre bancari, due imprenditori, due consulenti, una onlus e anche un'artista, artigiana. Questo ci ha dato la possibilità di affrontare il problema in termini molto più variegati e avere tanti punti di vista differenti. Abbiamo innanzitutto analizzato le problematiche e abbiamo definito quattro problemi principali. Uno, una restrizione del credito comune in tutta Italia e non solo, già a partire dalla crisi. Due, una simmetria informativa tra offerta e domanda di credito, cioè da una parte le banche non hanno né i tempi né i modi di conoscere molti aspetti dell'impresa e dall'altra spesso le imprese non conoscono il lessico bancario oppure i criteri di valutazione delle banche. In terzo luogo una valutazione quantitativa molto spesso rispetto a una valutazione qualitativa che dipende anche da questa simmetria informativa e dal fatto che c'è una distanza e un lessico diverso e appunto il quarto punto i diversi linguaggi. Abbiamo proposto anche delle soluzioni. La prima soluzione che è emersa dal tavolo e che è stata condivisa appunto da tutti questi attori è la creazione e l'istituzione di alcuni soggetti facilitatori e qui mi riallaccio anche da quello che diceva il mio collega prima di me soggetti facilitatori e certificatori che riescano a far comunicare da una parte i soggetti finanziatori quindi parliamo di banche, parliamo di venture capital, di private equity o anche di crowdfunding tutti quelli che possono in qualche modo mettere a disposizione o trovare dei fondi e dall'altra le piccole imprese, gli attori appunto che oggi sono al centro di questa conferenza. Ora cosa dovrebbero fare questi soggetti facilitatori? Dovrebbero risolvere o comunque accompagnare le imprese attraverso tutte quelle problematiche che abbiamo visto prima e in particolare fare un rating della persona e dell'idea prima ancora o insieme ai numeri nel senso l'hashtag forse, più che l'hashtag il tweet che potremmo lanciare è idee e persone prima dei numeri o accanto ai numeri. Quindi questi soggetti facilitatori e certificatori dovrebbero misurare sicuramente gli aspetti qualitativi dovrebbero misurare la capacità imprenditoriale delle persone, dovrebbero misurare la rete e quindi chi sta a fianco all'impresa che propone il proprio progetto che può essere sia una start up sia un'impresa già consolidata che però ha bisogno di credito e quindi la rete professionale, la rete di fornitori, la rete delle altre imprese che camminano insieme all'impresa in questione e fare anche quel lavoro di mediazione linguistica che appunto divide molto spesso il soggetto finanziatore dal soggetto che richiede il credito. Ora, per fare questo c'è anche bisogno, e qui mi riallaccio a un'altra domanda che era al centro della discussione, c'è bisogno di un soggetto pubblico che metta un po' l'olio in tutti questi ingranaggi e che riesca a sostenere questi soggetti facilitatori e certificatori. Faccio una parentesi, dico certificatori, non l'ho spiegato prima, perché dovrebbero certificare l'idea e la capacità imprenditoriale, soprattutto il business model in questo caso dello start up, ma anche in altri casi dell'impresa già esistente di fronte a chi ci mette i soldi, cioè dovrebbero avere, sono i soggetti che hanno il tempo e la capacità di andare più in profondità rispetto a quanto può fare la banca nella valutazione di un'idea imprenditoriale. Dicevo, serve un soggetto pubblico e qui faccio la call a tutti, spero ci siano, istituzioni in sala che possano cogliere questo appello, nell'accompagnare, nel fare il lavoro insieme ai soggetti certificatori, dando appunto quel finanziamento, quell'inquadramento istituzionale che permetta questo raccordo. Chiudo brevemente con, ah ecco faccio anche un esempio, io sono presidente di una onlus che si occupa proprio di questo, si chiama micro progress onlus e si occupa di microcredito e di accompagnamento all'avvio di impresa per piccole imprese. Abbiamo sviluppato un progetto si chiama crowd impact ed è proprio questo, una palestra per aspiranti imprenditori che vogliono testare il proprio business model, quindi noi per esempio siamo uno di questi soggetti e ci proponiamo come soggetto certificatore insieme ai tanti altri che possono fare questo. Vedo che ho dieci secondi, dico brevemente la seconda soluzione che è lo snellimento dei programmi di sostegno pubblico, in particolare una semplificazione dei processi, un credito certo, prima ancora che agevolazioni, serve che il credito arrivi, tempistiche di erogazioni più brevi e liquidità immediatamente disponibili. Quale presentazione fu più chiara? Grazie mille e come vedete grazie del fattivo contributo.